Alle prime ore dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Trapani e della compagnia di Marsala hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala su richiesta della locale procura della Repubblica a Nicolò Girgenti, il 46enne vivaista marsalese accusato di essere l'autore dell'omicidio del maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi. Ha arrestato anche Fabrizio Messina Denaro, cinquantenne castelvetranese con precedenti. I due sono accusati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Dalle indagini sarebbe chiaramente emerso che avevano ideato e realizzato insieme ad altri soggetti la piantagione di marijuana dove fu ferito mortalmente il maresciallo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il promotore dell'investimento illegale fu proprio Fabrizio Messina Denaro, noto come Elio che, conoscendo personalmente da anni Girgenti, dal quale acquistava le piante che poi rivendeva nel chiosco antistante il cimitero di Castelvetrano, aveva proposto al vivaista marsalese di cedere l'utilizzo delle serre a Francesco D'Arrigo, che poi ne avrebbe curato in prima persona la coltivazione. Quest'ultimo fu immediatamente individuato e arrestato la notte stessa dell'omicidio. A Girgenti sarebbe stato promesso un lauto compenso, un piccolo acconto e il grosso a fine raccolto, ma gli fu versata solo una minima parte, circostanza che evidentemente lo avrebbe fatto dubitare e che avrebbe potuto incassare senza difficoltà anche il restante denaro. Si presume quindi che per recuperare la somma che gli era stata promessa, approfittando della mancanza di vigilanza, la notte dell'omicidio avesse deciso di portare via le piante di canapa. Per difendere il suo investimento, come afferma il GIP nel provvedimento cautelare, Girgenti non avrebbe esitato a sparare ai carabinieri, ferendo a morte Silvio Mirarchi. Le indagini avrebbero anche appurato che il gruppo criminale che gestiva la piantagione insieme a Girgenti aveva persino avanzato ai familiari di quest'ultimo una vera e propria richiesta di risarcimento per il danno che il suo comportamento aveva procurato. Girgenti è stato raggiunto dal nuovo provvedimento restrittivo presso la casa circondariale di Trapani San Giuliano, dove si trova detenuto dal 22 giugno scorso. Fabrizio Messina Denaro è stato invece catturato nella notte a Castelvetrano e condotto nel carcere trapanese a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie.